Presentata ad Agropoli la nuova iniziativa Social Shop, il primo progetto in campagna dedicato alle attività commerciali che decideranno di aderire al circuito ottenendo opportunità vantaggiose che faranno sì che con la nuova tecnologia web app fatturati ed immagine abbiano un notevole aumento. Social Shop nasce con l'intento di far in qualche modo risanare il commercio tradizionale che ormai è soggiocato dall'evento del web, quindi dai grandi colossi come Amazon, Alibaba, Groupon eccetera. Il concetto è che io potrei trovare qualsiasi prodotto che troviamo all'interno dell'attività commerciale, trovarlo su Amazon con sconti che arrivano fino al 70-80%, per cui tutto questo va a discapito dell'attività commerciale tradizionale. Social Shop cerca di far viaggiare parallelamente il commercio tradizionale all'evoluzione del web, quindi cosa significa questo? Far sì che le attività commerciali riconoscono tramite un'app, uno sconto ai propri clienti, questo sconto tramite Social Shop viene girato in voucher acquisto Amazon, per cui il cliente alla fine va su Amazon a comprare gratuitamente, perché logicamente sono stati pagati da noi, il prodotto dei suoi sogni. Il nostro progetto non ha alcuna scadenza, quindi può andare lontano nel tempo, quindi non c'è un minimo di accumulo di punti né di euro, per cui quando ho voglia di poter acquistare qualcosa su Amazon faccio richiesta al Social Shop Italia per l'emissione di un voucher, oppure gli stessi sconti li posso rispendere all'interno di un'attività commerciale. Entusiasta dell'iniziativa il primo cittadino del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, fiducioso che un circuito del genere possa dare input agli esercenti e rilanciare il commercio in città. Noi riteniamo che iniziative come queste possono dare un aiuto al commercio della città di Agropoli. È un'iniziativa molto interessante, noi la guardiamo veramente con occhi di chi vuole capire e vuole far parte di questo progetto. Come abbiamo detto più volte, i lavori si fanno in sinergia. Questa idea io ritengo sia assolutamente utile per rilanciare il commercio nella nostra città. È un'iniziativa che parte così da un punto di vista privatistico, da chi l'ha immaginata, da chi la sostiene, da chi la promuove in tante altre città dove sta funzionando. Io penso che noi dobbiamo sostenerla perché credo sia un'iniziativa utile a rilanciare un po' il commercio. Ormai da anni la grande distribuzione la fa da padrone, oscurando, se non annullando, qualsiasi piccola e media attività commerciale. Questo proprio grazie al loro grande potere d'acquisto. È proprio per questo che nasce Social Shop, l'unico vero diversivo per poter combattere questo potere, unendo insieme qualsiasi attività commerciale presente sul territorio nazionale, creando così un unico grande ed immenso consorzio, dove qualsiasi attività potrà essere protagonista sfruttando le nuove tecnologie di marketing messe a disposizione dall'evoluzione tecnologica. Social Shop è un circuito commerciale per cui chiunque può aderire, dal negozio di alimentare, il negozio di scarpe, la parafarmacia, la cartolibria, tutti possono aderire. È molto semplice, ci contattano, noi visitiamo l'attività e diamo la possibilità di entrare nel circuito. Entrare nel circuito in questo momento è molto interessante perché è praticamente gratuito. Noi stiamo partendo adesso, l'azienda, grazie all'intervento che noi abbiamo fatto, ha deciso di partire da Agropoli. Quindi questo è il primo circuito che si forma in Campania, nel Lazio già sono formati, sono molto forti. Per cui ci contattano a me personalmente, tramite Facebook oppure sul sito, ci mandano una mail di informazioni, e noi li visitiamo, gli spieghiamo tutto il progetto, gli spieghiamo come funziona, le card, gli sconti e tutte le premialità e partecipiamo a questo progetto, molto semplice. Quali sono i vantaggi appunto di un'attività commerciale aderendo a questo progetto? Allora, il primo vantaggio, quello che mi viene da dire subito, è che tutte le attività commerciali oggi soffrono il mondo di Internet, soprattutto il mondo di Amazon. Il concetto nostro è molto semplice, se non riesci a combattere, fatteli amici. Quindi noi utilizziamo questi due mondi per far sì che le persone possano essere coinvolte nelle attività direttamente sui territori. C'è una premialità molto importante, una premialità sia immediata e sia in scontistica. Questo è molto forte perché lascia la semplicità all'utente di poter decidere se ricoinvolgersi nell'attività o ricoinvolgersi su Internet. E questo è coinvolto ed è veicolato sempre dall'attività commerciale. Ci resta che allora invitare degli spettatori di Cilento Channel, che magari hanno anche un'attività commerciale, a contattarvi e quindi diamo anche dei riferimenti. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare il sindaco perché ha sposato questo progetto, gli è piaciuto molto e ha spinto la possibilità che i commercianti possano farne parte. Mi possono contattare su Facebook oppure c'è il sito di Social Shop Italia, per cui possono andare sul sito, mandano una semplice mail e noi li contattiamo. Tutto molto semplice. Grazie. Grazie. Grazie.